Salve, benvenuti a questo nuovo video tutorial. Oggi parleremo del Captive Portal, servizio di PFSense utilissimo per dare la possibilità ai nostri ospiti di navigare su internet. Lo schema che stiamo vedendo rappresenta uno schema di una rete LAN di una piccola azienda, dove si può vedere abbastanza velocemente la presenza di un firewall posto a separazione tra LAN e WAN. Qualora volessimo evolvere il firewall, nel nostro caso il PFSense, e volessimo utilizzarlo anche come sistema di Captive Portal per dare la possibilità ai nostri ospiti presenti all'interno della sala di riunioni di navigare su internet, dovremmo dotarlo di tre schede di rete. Quindi una collegata alla LAN, l'altra collegata come WAN al router collegato ad internet e la terza scheda di rete è collegata ad un access point presente all'interno della sala di riunioni. Quindi i nostri ospiti presenti all'interno della sala di riunioni, con i loro portatili, vedranno la presenza di una wireless aperta. Collegandosi, chiaramente, saranno catapultati su un portale dove verrà richiesto una login e una password, che avranno chiaramente, perché è data preventivamente da noi, e quindi la utilizzeranno per navigare su internet. Quindi, ritornando a uno schema che vada direttamente sul firewall, abbiamo due schede di rete, il nostro schema iniziale, che viene trasformato in uno schema di un firewall con tre schede di rete, sempre presenti su macchina fisica. A questo punto l'evoluzione ulteriore che potremo dargli è utilizzare un PFSense come virtual appliance. Quindi, facendo riferimento al tutorial che abbiamo visto all'inizio della nostra serie, quello relativo all'installazione di un PFSense come virtual appliance, potremo, invece di inserire all'interno del PFSense due schede di rete virtuali, potremo inserirne tre schede di rete virtuali, collegate a tre schede di rete fisiche. È chiaro che questo si può risolvere in un altro modo, attraverso le VLAN, però stiamo facendo sempre riferimento a un'azienda di piccole dimensioni, quindi dobbiamo cercare assolutamente di garantire un servizio utile e innovativo, chiaramente abbattendone i costi. Facendo riferimento al nostro server HP, al nostro microserver, quindi in questo caso dovremmo installare tre schede di rete. Una è presente all'interno, saldata sulla scheda madre. A questo punto, invece di inserire, come abbiamo visto sempre nel primo tutorial, un'ulteriore scheda di rete PCI Express Low Profile, si può inserire un'ulteriore scheda di rete, sempre PCI Express, sempre Low Profile, però con due porte 10-100.000. Si fa riferimento tranquillamente all'HP, ma si può far riferimento anche ad altre schede, purché siano compatibili, chiaramente, con VMware. Potete fare un salto su ebay, ne troverete un sacco, anche a prezzi abbastanza bassi. Accediamo al PFSense attraverso l'inserimento delle nostre credenziali di autenticazione. Subito dopo, la prima cosa che dobbiamo verificare è la presenza di almeno tre schede di rete all'interno del nostro PFSense. In questo caso ce ne sono quattro, ma ce ne servono solo tre, quindi, OPT1 sarà la scheda di rete usata per Captive Portal. Andiamo sempre su Interfaces e andiamo ad abilitare la OPT1. Andiamo a definire un nome per la OPT1, un nome identificativo, descrittivo, e subito dopo andiamo a definire l'indirizzo IP che dovrà assumere la scheda di rete Captive. Non ci sono gateway, andiamo a salvare, andiamo ad applicare le modifiche effettuate, attendiamo finché la pagina venga ricaricata e chiaramente che scompaia Apply Changes. Chiaramente lo scenario è un caso reale, quindi ha bisogno di un po' di tempo in più, perché oltre ad effettuare le modifiche, il firewall sta effettivamente lavorando. Andiamo su DHCP Server, in modo tale da andare a definire un range di indirizzi IP che la OPT1, quindi la Captive Portal, deve dare ai portatili che si dovranno collegare, quindi abilitiamo il DHCP Server sulla Captive Portal, andiamo a definire un range che può andare da 192.168.350.192.168.300, definiamo il DNS Server che corrisponderà con l'indirizzo IP della scheda di rete Captive Portal, lo stesso dicasi per il gateway. salviamo. Aspettiamo che la pagina chiaramente venga ricaricata. Ok, clicchiamo su Close. Andiamo a definire sul firewall delle regole all'interno della sezione Captive Portal. In un primo momento andiamo a definire, andiamo a dare delle regole molto molto permissive, lasciamo entrare ed uscire tutto, in modo tale da poter analizzare attentamente la presenza di eventuali problemi che ci blocchino l'utilizzo del Captive Portal. Quindi in questo caso sarà tutto aperto, quindi regole molto molto permissive. Andiamo nella sezione Services, andiamo in Captive Portal e andiamo ad abilitarlo sull'interfaccia Captive Portal, che sarebbe la OPT1. e definiamo l'indirizzo, o meglio non l'indirizzo IP, ma il sito web che sarà utilizzato come reindirizzamento in seguito a un inserimento corretto di credenziali di autenticazione. L'altra cosa che dobbiamo fare è molto importante e essere certi che in autenticazione sia presente il check di spunta su Local, User Manager, e poi alla fine dobbiamo andare a cliccare su Save. per salvare chiaramente tutte le modifiche apportate. Salviamo e chiudiamo. Abbiamo fatto gran parte del lavoro. Dobbiamo andare in User Manager e dobbiamo andare a creare il nostro utente. In questo caso è offuscato per chiaramente preservare la privacy degli utenti. Andiamo a crearne uno nuovo. Creiamo ad esempio come username Nico e la password, la classica Beable, che non dovete assolutamente usare. In full name andiamo a mettere Captive Portal Test in modo tale da avere un identificativo più veloce da considerare. L'altra cosa molto importante è l'expiration date. L'expiration date può essere utile se dovete andare a dare addirittura una definizione di un giorno solamente di utilizzo per il Captive Portal. Il giorno dopo quell'utente sarà completamente disabilitato. Apriamo un browser per testare chiaramente l'utilizzo del nostro Captive Portal e clicchiamo direttamente su Captive. Subito ci collegheremo alla rete Captive dove non ci sarà la possibilità di navigare ad internet perché subito verremo reindirizzata a una richiesta di login e password. Chiaramente inseriamo Nico e Beable le nostre credenziali inserite nello User Manager Continua e andiamo a posizionare da parte questo pop-up che ci servirà successivamente per uscire dal Captive Portal. In questo modo siamo stati subito reindirizzati al sito web di Beable. Proviamo ad effettuare un test. Chiaramente lasciando aperte tutte le regole per il Firewall possiamo collegarci tranquillamente all'interno della rete LAN cosa che non deve completamente accadere. Adesso usciamo dalla Captive ricolleghiamoci alla wireless interna la LAN dell'azienda e andiamo ad effettuare delle modifiche all'interno del Firewall. Andiamo a creare delle regole più restrittive in modo tale che non facciano passare il traffico verso le varie condivisioni SMB le varie condivisioni Samba non permettano oltre a questo l'utilizzo della porta SMTP la 25 e l'altra cosa che è molto importante da fare è quella di bloccare completamente il traffico dalla Captive Portal all'interno della rete LAN delegando l'utilizzo chiaramente della sala riunioni come abbiamo visto precedentemente alla sola visualizzazione di internet. Grazie a tutti. Abbiamo quasi finito con l'inserimento delle regole che ci servono per far sì che il nostro ospite non possa andare a zonzo per l'intera rete LAN e che soprattutto l'altra cosa molto importante è bloccare la porta 80 del PFSense dalla Captive Portal perché non deve avere neanche la possibilità di accedere alla web page di PFSense è chiaro che in questo caso che è una prima analisi la porta del PFSense è 80 però si cerca sempre di modificarla inserendo una porta differente dall'80 si fa un piccolo mascheramento ci mancano un altro paio di porte inseriamo la 25 è chiaro che questi sono solo dei più che dei test sono solo degli esempi possiamo inserire molte più regole anche in base a ciò che vogliamo dare agli ospiti per ogni regola utilizziamo il form della descrizione in modo tale che la lista appaia abbastanza esaustiva nelle nelle definizioni abbiamo quasi finito piccolo errore commesso lo andiamo subito a modificare per bloccare la regola va bene inseriamo ancora un'altra quella di cui vi ho parlato prima il blocco della rete LAN nei confronti del guest dell'ospite salviamo applichiamo le modifiche e possiamo subito testare chiaramente le regole applicate andiamo ricolleghiamoci alla captive inseriamo nuovamente le nostre credenziali di autenticazione e subito proviamo a navigare tranquillamente nei siti web la prima cosa che possiamo fare è andare ad utilizzare la console navighiamo sui siti web su un'altra pagina in questo modo abbiamo il totale accesso ad internet verifichiamo attraverso ifconfig ops ifconfig per linux ipconfig che è il nostro il nostro gateway è effettivamente 192 168 3.1 ok abbiamo ricevuto 192 168 3.51 dal dhcp quindi inseriamo il 192 168 3.1 e abbiamo il blocco dell'accesso al al pfsense andiamo a utilizzare lo 0.225 perché prima ci faceva raggiungere un server interno alla lan adesso è bloccato quindi effettivamente abbiamo ottenuto il 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 risultato desiderato arrivederci e ricordatevi di iscrivervi al nostro canale youtube per essere sempre aggiornati sui nuovi video un po' di un po' di un po' di